E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo Per celebrare la fine di questo 2018, andremo a vedere quelli che secondo noi sono i migliori video che sono stati pubblicati all'interno della community italiana di Destiny Naturalmente quella che andremo a fare non è una classifica, quindi non stileremo una classifica appunto dei migliori video Ma è solamente appunto il citare quelli che secondo noi sono stati più divertenti e più carini pubblicati sul tema Detto questo, direi che possiamo subito iniziare Come primo video vogliamo citare sicuramente la parodia di RedLeo di Faccio quello che voglio Trasformate in uso quello che voglio, che è stata veramente molto divertente, soprattutto per il tema trattato Come idea è stata molto carina perché appunto è stata una delle prime parodie in tema Destiny inserite e caricate su YouTube Quindi originalità massima Un altro video che ci sentiamo di nominare è assolutamente quello delle ESL Della vittoria di The Falling Lights al torneo del Lucca Comics su Azzardo Appunto una cosa che in Italia è molto molto rara e che è stata vinta appunto da un baluardo della community Ovviamente non ci incentriamo in particolare sul video ma quanto sull'evento Perché comunque essendo il primo torneo di Destiny in Italia, ufficiale, ovviamente la vittoria di comunque persone che ci stanno relativamente vicine ha fatto molto molto piacere D'obbligo era anche citare Destiny on Crack che ovviamente è stato veramente qualcosa di assurdo con la collaborazione di RedLeo e Nogatz insieme ovviamente al grande Ezio che ci hanno fatto veramente spaccare Un video che comunque raccoglie una quantità enorme di meme e di Vines che fanno veramente morire morire dal rete Ci riserviamo un piccolo spazietto ora e andiamo a citare Destiny Fall of Osiris che è stato diciamo un'idea di cui andiamo molto molto fieri Che magari non ha riscosso tanto 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 successo ma che per quel poco che abbiamo fatto ci ha dato veramente molte soddisfazioni E ringraziamo di nuovo ovviamente Ferro, Alex Jäger, RedLeo e Luga per aver partecipato E anche se poi la pubblicazione in italiano è avvenuta tramite via ufficiale noi ci siamo comunque impegnati nel fare questi due piccoli capitoli che comunque ci hanno resi molto molto fiori Un'altra serie molto molto interessante è stata quella di Rewind nella quale lui prendeva e racchiudeva in un sol video le clip più belle e più particolari degli iscritti durante appunto la settimana Vedere comunque delle belle clip anche commentate da uno youtuber diciamo che si incentra un po' più sul crogiolo è stata veramente un'idea molto molto carina Inoltre un video molto molto apprezzato è stata la recensione a caldo di RedLeo all'espansione Black Armory Sia perché la sincerità era assoluta e questo mix di sincerità e critica ha reso il video anche abbastanza divertente Per portare poi a un prodotto veramente molto molto interessante Finalmente abbiamo visto su youtube qualcosa che era veramente una propria idea e portare avanti delle proprie convinzioni anche contro tutte le critiche che ha ricevuto in seguito Salutiamo Akma Life che durante tutto il 2018 ha portato tanta serenità Appunto dicevo veder finalmente qualcuno che riesce e che dice quello che pensa chiaro e tondo è veramente veramente una cosa bella Altra serie molto 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 apprezzata è stata quella del finalmente il ritorno del Calamignotti di Luga Che è qualcosa che fa veramente fa veramente morire Anche l'idea di comunque coinvolgere gli iscritti in una serie del genere per creare un episodio sempre nuovo e sempre pieno di risate E in tutto ciò io sto ancora aspettando il mio turno Sempre di Luga era d'obbligo citare il Funny Moments annuale che veramente quest'anno è riuscito a strapparci come al solito qualche risata 10 minuti che ti tengono sempre incollato allo schermo Sente pronto a noi sorrisi e sempre pronto a scoprire in quale sarà il prossimo modo in cui Poletto morirà L'ultimo video ma non per questo è importante che vi portiamo qui È Stranger Guardians di Ezio che è stato veramente speciale, veramente unico nel suo genere E che ha portato veramente veramente tante risate ma in ogni modo ha racchiuso quella che effettivamente era la verità di quel periodo di Ezio La verità dei giocatori che c'erano in quel periodo Un misto fra critica e satira che spicca per l'originalità e che comunque fa sempre molto molto ridere Quindi ragazzi questi erano quelli che secondo noi sono stati i video più rappresentativi e memorabili diciamo di questo 2018 Scriveteci qua sotto nei commenti se siete d'accordo con noi o seppure abbiamo dimenticato qualcosa che meritava di essere inserito in questa classifica Naturalmente cogliamo l'occasione anche per ringraziarvi tutti in maniera speciale per quest'anno in cui ci avete supportato e aiutato a crescere nel migliore dei modi possibile Come al solito quindi ragazzi io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo Dite tutti quelli che non conoscete e non conoscete che c'è altra lissima Se qui c'è anche su Instagram, Facebook come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E la tua luce è mia E la tua luce è mia